3 agosto 2024, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, coraggio! Il domani sarà migliore per i giusti. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti alle cose del cielo. Non dimenticate. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Conosco ciascuno di voi per nome e pregherò il mio Gesù per voi. Abbracciate con gioia il Vangelo del mio Gesù e testimoniate in ogni luogo che siete nel mondo, ma non siete del mondo. L'umanità ha perso la pace perché gli uomini si sono allontanati dal cammino della santità. Non vivete nel peccato. Pentitevi e riconciliatevi con Dio per mezzo del sacramento della confessione. Quando vi sentite stanchi, cercate forze nella preghiera e nell'eucaristia. Camminate per un futuro doloroso. La terra subirà grandi trasformazioni e i miei poveri figli berranno il calice amaro della sofferenza. Ciò che vi predissi nel passato si va realizzando. Soffro per quello che viene per voi. Datemi le vostre mani e io mi prenderò cura di voi. Avanti per il cammino che vi ho indicato. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.